The Building, hotel 4 stelle al centro di Roma, presenta Gourmans, ristorante immerso in un'atmosfera avvolgente e suggestiva, dove gustare il meglio dei sapori mediterranei. Un'ampia scelta di cucina internazionale ed etnica, con materie prime di ottima qualità, magistralmente interpretate dallo chef Andrea Kossalter. Ristorante Gourmans, presso Hotel The Building, in via Montebello, 126, Roma. Ristorante Gourmans, presso Hotel The Building, in via Montebello, 126, Roma. Roma Multiservizi S.P.A. Da oltre 25 anni garantisce altissimi standard qualitativi e di sicurezza per il settore pubblico e privato. Operiamo nelle scuole, negli asili, in aree verdi ed edifici con servizi di sanificazione, assistenza, pulizia, igiene, manutenzione, sicurezza e agibilità. Siamo un'azienda leader nei servizi integrati con il 97,5% di soddisfazione del cliente. Contattaci sul sito romamultiservizi.it Roma Multiservizi, la nostra professionalità al vostro servizio. Contattaci sul sito romamultiservizi.it Buonasera e ben trovati. Un appuntamento di terzo millennio oggi è un argomento, direi un po' triste, però fondamentale. Ed è fondamentale che lo capiamo, che lo capiate nel modo giusto. Ne parliamo con i professionisti del settore. Tecnicamente la successione è una procedura giuridica che alla morte di qualcuno permette di trasferire il patrimonio del decuyus, del morto, per usare un termine un po' più spartano. Con la morte si estingue la capacità giuridica della persona e i diritti inerenti, ovvero i diritti personali, ma non ovviamente i diritti patrimoniali, che dovranno quindi essere trasmessi ad altri. Cercheremo di capire in che modo succede questo, qual è la normativa attuale. Ne parliamo con il notaio Alfredo Becchetti, bentornato, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti voi, buonasera Andrea. Ne parliamo con il dottore commercialista Roberto De Marco, buonasera. Buonasera a tutti. Ne parliamo con il dottore commercialista Massimiliano Borghese, buonasera. Buonasera a tutti. E con il consulente fiscale e revisore legale Romano Amato. Buonasera. Buonasera. Allora, Borghese, io inizierei da lei. Innanzitutto, nel linguaggio giuridico, per evitare di ricorrere al termine defunto o morto, si ricorre a un termine latino. Ed è una cosa abbastanza elegante, abbastanza chic. Però la successione è sempre qualcosa di particolare e di travagliato. Innanzitutto, nel nostro paese c'è un regime fiscale particolare, poi lei ci dirà quale. Poi sulla successione, lo leggiamo sulla cronaca, su tutti i giornali, spesso e volentieri succedono un po' dei pasticci. Quindi litigi fra i redi, a chi spetta cosa. Allora, esattamente, quando e dove si apre la successione? Allora, l'aforisma che nella vita ci sono due certezze. La morte e le tasse sembra attagliante a questa trasmissione. E premesso il fatto che... Mi hai iniziato col botto, però. No, 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 dico sempre... No, nel senso che ovviamente, da professionista, sono convinto che i colleghi condivideranno questa impostazione, la pratica della successione è quella meno gradita per il fatto che, ovviamente, siamo tenuti a chiedere un corrispettivo a dei clienti, spesso che sono in confidenza con noi, a fargli pagare delle tasse, non per comprare una casa nuova, per costituire una nuova società, però in concomitanza di un evento spesso tragico, luttuoso, quindi immaginiamo la perdita di un parente, di un congiunto, che al di là di quello che può essere la drammaticità, di quello che è l'impatto su una famiglia, per giunta necessità, vuole che ci siano degli adempimenti da fare. In primis, sotto il profilo civilistico, per trasferire quei diritti patrimoniali che lei, dottore, ha narrato. In più, per assolvere le imposte, perché a tutti gli effetti il trasferimento di ricchezza, dal punto di vista normativo, prevede un'imposizione. Per fortuna, questa è l'impostazione che io condivido, la nostra normativa ha dato priorità e centralità al concetto di famiglia, famiglia tradizionale, e non entro nel merito di una possibile disputa, se sia giusto o no, sulla famiglia tradizionale, su diritti negati, in cui è sufficientemente benevola, sia dal punto di vista civilistico, dal punto di vista fiscale. Dal punto di vista civilistico, perché, come magari possiamo approfondire dopo, prevede una serie di guarantigie nei confronti di una legittima che spetta comunque ai parenti e ai congiunti in maniera diretta, cosa che magari in altri ordinamenti è molto più labile. Questo perché, dal punto di vista fiscale, nello stesso modo, l'Italia può essere considerata un paradiso fiscale per una serie di motivi che poi possiamo anche approfondire sotto quali aspetti. Vabbè, questo lo sappiamo. Sappiamo anche chi l'ha fatta diventare un paradiso fiscale dal punto di vista della successione. Potete essere d'accordo oppure no, però, de facto, la successione in Italia è conveniente. È un caso più unico che raro, credo, no? Cioè, forse è uno dei pochi casi dove è conveniente fare qualcosa in Italia. Guardi, sì, certamente l'approccio italiano dal punto di vista della tassazione è quella di andare a privilegiare, anche dal punto di vista fiscale, quello che idealmente è un sacrificio fatto dal padre e non andare a infierire su un trasferimento di ricchezza che rimane nell'alvio della famiglia. Ossia, il vero trasferimento di ricchezza è quando esce dalla sfera del nucleo familiare. E allora la tassazione gode di meno garantigge. Quindi, per già introdurre l'argomento squisitamente fiscale, immaginiamo il fatto che per ogni erede in via discendente o ascendente, per dirlo in maniera più comprensibile nei confronti dei genitori e dei figli, ovviamente c'è un'esenzione pari a un milione per ogni erede. Questo chiaramente è fondamentale perché un genitore che lascia un coniuge e tre figli fino a tre milioni di euro dell'asse ereditario non assolve imposte. C'è però qualcuno che ci ha superato perché, volendo fare un discorso internazionale, gli Stati Uniti, dove l'aliquota era molto molto gravosa, il 40%, sotto la presidenza Trump, ai residenti negli Stati Uniti l'hanno allargato a 11 milioni e mezzo di dollari. Quindi è veramente difficile negli Stati Uniti, a meno che non sei un tycoon, o Trump stesso, riuscire a pagare imposte negli Stati Uniti. C'è da dire che i cittadini americani spesso usano e abusano dello strumento del trust, che anche lì potrebbe essere un altro argomento da trattare, che in Italia è ammesso ma non è regolamentato dal nostro codice civile e quindi diciamo che questo era anche un modo con cui le imposte di successione nei paesi anglosassoni erano relativamente leggere sotto questo punto di vista. Assolutamente. Allora, Becchetti, innanzitutto buonasera. Quali sono i beni oggetto di trasferimento? Come viene devoluta l'eredità? E si parla, o meglio ci ha parlato poc'anzi il dottor Borghese, di eredi legittimi. Quali sono, quali sono le caratteristiche e in che percentuale? Mi scusi tutte le domande, ma sono curiosissimo. Certamente. La materia è ascoltata con molta precisione. Dunque, innanzitutto, per cosa cade in successione? Cioè che cosa viene trasferito dal decuius, dal defunto, dal morto? Chiamatelo come volete, il modo giusto è dire decuius o defunto. Dal decuius ai suoi eredi è tutto il suo patrimonio, attivo e passivo. Attivo e passivo, quindi tutti i beni, mobili, immobili, denaro, gioielli, debiti, debiti nei confronti dello Stato, debiti nei confronti di altre persone, tutto è il patrimonio. Si dice che è una successione universale, cioè si sostituisce alla persona universalmente i suoi eredi. Quindi in qualunque posizione patrimoniale viene sostituito l'erede al proprio decuius. Chiaro. Chi sono gli eredi? Gli eredi vanno divisi in due grandi categorie. La terminologia del Codice Civile divide in due categorie. Il termine è molto simile, ma va fatto a una distinzione. Si chiamano eredi legittimi o eredi legittimari. Gli eredi legittimari sono il conige, i figli o gli ascendenti. Cioè sono il conige e i figli in presenza di matrimonio e di figli nati, in mancanza di figli il conige e i genitori, in mancanza di conige e figli soltanto i genitori. Cioè sono tre categorie che per legge devono necessariamente ereditare una parte del patrimonio, o quella che prima il dottore chiamava giustamente quota legittima. Mi perdoni, il conige ovviamente finché si è sposati. Il conige finché non si è sposati. Il divorzio scioglie il matrimonio, quindi scioglie anche i diritti ereditari. Chiaro. Questi tre soggetti, queste tre categorie... No, mi scusi, mi perdoni Becchetti, l'ho detto questo perché già non si sposa più nessuno. Se non diamo questa percitazione facciamo danni, mi perdoni. Si avvantaggiano i figli, se uno non si sposa e non si sposa e fa figli, gli eredi diventano solo i figli, quindi l'acqua va sempre al mare, quindi da quel punto di vista, dal genitore vanno ai figli, ci sono sempre delle categorie di eredi. Cioè il patrimonio deve avere sempre un erede, alla lunga se non eredi da nessuno eredi dallo Stato. Quindi comunque deve essere qualcuno che riceve il patrimonio di una persona che è defunta. Questi eredi legittimari, questi tre soggetti, hanno i diritti, un diritto a una quota legittima, una quota specifica che è prevista dalla legge, che cambia a secondo se c'è solo il coniuge, il coniuge è un figlio, il coniuge ho più figli. Affianca a questa quota che si chiama per l'appunto quota legittima... E quant'è questa quota? Mi perdoni, come viene divisa? Nel caso di coniuge e figli? Allora, stavo facendo questa precisazione. Si applica solo questa norma del coniuge e dei figli se non c'è testamento. Cioè senza il testamento la norma del Codice Civile prevede che ereditano il coniuge e i figli, cioè un terzo va al coniuge e due terzi va diviso fra tutti i figli quanti figli sono. Due figli, tre figli, cinque figli, si prendono due terzi di ereditesse e lo dividono. Se non c'è testamento, ma nell'ipotesi in cui ci sia un testamento, cioè nell'ipotesi in cui il decuyus abbia deciso di fare un testamento, allora opera un'altra parte del Codice Civile, cioè quella che dice che al Codice gli va un quarto, ai figli, se sono più di uno, va metà del patrimonio e un quarto del patrimonio è alla cosiddetta quota disponibile, cioè alla disponibilità del decuyus il quale la lascia a chi desidera lui, a chiunque, forse anche a un ente benefico, un ente allo Stato, a un terzo soggetto, all'amante, all'amico, a chiunque. Quella si chiama quota disponibile ed è pari a un quarto dell'eredità. Quindi, per essere molto precisi su questo fatto, bisogna dividere in due grandi tronconi. L'eredità con testamento, l'eredità senza testamento. Se l'eredità è senza testamento, opera la legge, secondo delle regole previste dal Codice Civile, di vicinanza al decuyus. Tanto più tu sei un parente vicino, tanto più erediti. Se ci sta la moglie e i figli, ereditano solo moglie e figli. Se non ci sono moglie e figli, i genitori. Se non ci sono i genitori, i parenti più vicini, i cugini, i zii, i nipoti, insomma, in ordine di vicinanza alla persona che è defunta. Ma se c'è testamento, allora opera l'eredità testamentaria e quindi queste categorie che a questo punto prendono il nome di eredi legittimari, cioè coniugi e figli, devono obbligatoriamente ricevere una parte dell'eredità. E di un quarto l'eredità, il decuyus, cioè il defunto, dispone come meglio crede nel testamento. Chiarissimo. È stato chiarissimo. Ci ha tolto ogni fugace dubbio. Quindi sappiamo esattamente in che modo fare. Comunque è sempre preferibile, credo, questo dal mio punto di vista, fare un testamento. Almeno fino a che uno è nelle condizioni di poterlo fare, credo che sia qualcosa anche di giusto. Sì, ma poi il testamento c'è una errata interpretazione nel nostro comune sentire, cioè che il testamento sia un atto notarile, difficile, costoso, troppa cinematografia intorno a questo. Il testamento è un atto che costa pochissimo perché la nostra codice civile prevede la possibilità di fare un testamento olografo. Olografo viene dal greco olos grafos, cioè scritto da se stesso. E quindi se io faccio un testamento senza bisogno del notaio, senza bisogno di nessun professionista, e me lo scrivo da solo, questo testamento scritto di mio pugno ha la stessa valenza giuridica di un testamento fatto davanti al notaio. Che succede quando un testamento viene in qualche modo... ci sono dei casi in cui ci sono dei testamenti e vengono contestati, cioè la firma non è vera, è fasullo, che succede in quel momento? Il testamento può essere contestato o perché il suo contenuto non rispetta le regole che dicevo prima della disponibile e della legittima, cioè delle quote che devono essere lasciate obbligatoriamente ad alcuni eredi. E in questo caso si apre una causa che si chiama azione di riduzione, cioè un'azione davanti al giudice affinché gli eredi legittimari si vedano riconosciute quelle quote di eredità che gli spettano per legge. E quindi lì sarà il giudice che deciderà quanta parte di un'eredità va a uno e quanta parte va all'altro in funzione del rapporto di vicinanza familiare. Ma se il testamento è falso, non scritto di pugno dal decuius, oppure la firma è falsa o la data non è scritta nel modo giusto o ha un elemento all'interno, quindi formale, non sostanziale, formale, il testamento diventa nullo e a quel punto perde la sua efficacia e opera la successione per legge, cioè vengono nominati eredi più vicini secondo i parentesi e i tipi vicini secondo l'ordine di grado previsto sempre dal codice civile. Quindi coni, i figli, poi i cugini, i nipoti, i zii, quello che è insomma. Chiaro, chiarissimo. Allora, dottor De Marco, abbiamo detto ovviamente che nella successione si ereditano sia i debiti che i crediti. Che succede se i debiti sono superiori ai crediti? Da un punto... È evidente che in quel caso non conviene accettare l'eredità oppure accettarla col beneficio di inventario. Che significa accettarla? Nel senso che il chiamato all'eredità, ovvero uno degli eredi del De Guius, può decidere di non accettare l'eredità oppure di accettarla col beneficio di inventario proprio per verificare se ci sono debiti per cui non convenga accettarla. Perché è ovvio che se c'è una posizione debitoria che è superiore agli attivi che uno va ad ereditare non sarebbe conveniente accettare l'eredità. Quindi l'eredità, mi perdoni, va accettata in toto nel bene o nel male? Sì o no? Nel bene o nel male? Sì, se uno diventa erede è ovvio, nel bene o nel male. Come diceva prima il notario, nell'eredità si trasmettono sia i debiti che i crediti che gli attivi. Quindi gioielli, conti correnti, immobili, ma anche i debiti e anche i debiti con l'eredità. E qualora io un'eredità in qualche modo non lo accetto perché scopro che eredito tutta una serie di debiti importanti. Chi li paga questi debiti? A quel punto non li paga nessuno perché restano debiti del decuyus e l'eredità non può rispondere, cioè l'eredità che non accetta l'eredità non può certo rispondere ai debiti del decuyus e quindi non vengono pagati. Mi spiace per il creditore ma insomma purtroppo è così. E non c'è una tutela nei confronti eventualmente del creditore o no? Perché non so se uno ha un credito importante ti muore la persona eh lo so però quello fa parte a questo punto di questo questo fa parte dell'alea di essere creditore o di aver dato fiducia a qualcuno immeritatamente però dico se muore e gli eredi non accetto l'eredità non posso rivalirmi certo su di loro quindi il creditore a quel punto perde il proprio credito cioè questo è evidente non ci può essere tutela perché non si può chiamare un erede a fare da co obbligato forzatamente no chiaro è chiaro 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 assolutamente era solo per capire è possibile condizionare un lascito prego Roberto scusami sì non risponde l'erede principale no però poi naturalmente siccome l'erede principale rinuncia all'eredità al suo posto subentra un altro erede cioè il più vicino può sempre però rinunciare a sua volta a sua volta rinuncia e tutti quanti coloro che sono gli eredi chiamati all'eredità in termini di vicinanza al decuyus alla fine eredita lo Stato e risponde di quel debito lo Stato nei confronti del creditore ah quindi c'è qualcuno ah quindi c'è qualcuno che quindi alla fine lo Stato insomma diciamo che non è che lo Stato lo Stato paga questo non lo sapevo infatti è una novità è una novità è una cosa molto strana che lo Stato paga ogni tanto quando se lo ricorda con lunghezza però sì però sì beh però mi perdoni mi perdoni una battuta Becchetti sì lo Stato paga però poi succede che se tu fai un 7,30 questo anche per il Dottor De Marco e vai sul dare e sull'avere per quanto riguarda l'avere passano dieci anni sul dare invece te richiedono subito non c'è una una compensazione quindi sì lo Stato paga ma quando gli pare ecco questo scusate il francesismo ma mi sembrava giusto sottolinearlo diceva Becchetti la vedevo no non c'è dubbio cioè il il tema è che dovrebbe pagare lo Stato poi dopo il fatto che materialmente paghi è un altro paio di maniche dovrebbe pagare lo Stato perché lo Stato è l'erede designato di quel decurius se nessuno prima di lo erede poi dovrebbe sempre il condizionale esatto adesso è stato un evento straordinario è stato più preciso notaio Amato allora abbiamo capito un po' come funziona quindi si può anche rinunciare completamente all'eredità e rinunciano tutti gli aventi diritti e il debito in qualche modo passa allo Stato questo più o meno è la trafila allora che cosa succede diciamo da un punto di vista proprio fiscale su un'eredità ci racconti un po' quali sono i costi come funziona quali sono i passaggi cosa bisogna fare cosa non bisogna fare insomma ti muore un genitore un parente il marito la moglie e ti trovi improvvisamente in un mare di cose burocratiche da fare come succede spesso e volentieri nel nostro paese oltre al dolore dell'evento dell'avvento Fausto in Fausto poi che succede? la filmografia non parla proprio di dolore quando arriva l'eredità dell'ozio d'America sconosciuto va beh se ti muore un'ozio d'America ma c'è festeggiamento che ti lascia meno di 11 milioni meno di 11 milioni grazie a Trump diciamo poi sei residente però che poi magari parliamo ma i non residenti invece sono tassati al 40% quindi vedi metto un tema è vero quindi mi stava dicendo Amato diciamo che nel momento in cui si apre la successione dal punto di vista prettamente fiscale c'è un anno di tempo quel termine di vacazione un anno per presentare la dichiarazione di successione ok nella dichiarazione di successione vanno riepilogati tutti i crediti e tutti i debiti del decuyus che vengono equamente ripartiti oggi le successioni si presentano per via telematica quindi non c'è più il rapporto diretto con l'ufficio il sistema calcola automaticamente anche le imposte dovute le imposte fisse dovute le imposte ipotecari e catastali ma non l'imposta di successione che è soggetta sempre al capo quanti sono le imposte fisse di cosa parliamo allora se vanno in successione immobili le imposte ipotecarie sono pari al 2% e le imposte catastali pari al 2% quindi a un 4% al 2% del valore reale del valore degli immobili sì ma il valore reale o quello catastale la rendita catastale rivalutata se parliamo di se parliamo di appartamenti se parliamo di case parliamo di rendita catastale rivalutata no le dico questo perché c'è una grossa differenza poi inoltre molta differenza attenzione perché se un erete se il coniuge succede all'altro coniuge ovviamente quella è la sua prima casa e su questa paga solo le imposte fisse ipotecarie e catastali 200 euro e 200 euro poi ci sono alcuni tributi speciali l'imposta ipotecaria l'imposta di bollo però che si racchiudono in un 150 euro complessivamente quindi 2% ipotecari 2% catastali sul valore degli immobili per quanto riguarda invece il dottore prima ha specificato bene c'è una garantigia di un milione di euro per tutti i discendenti e gli ascendenti in linea retta quindi per ogni discendente c'è un milione di euro e l'imposta è al 4% chiaro per i fratelli e le sorelle questo bonus questo forfait esente da imposte scende a 100.000 euro e sale l'imposta al 6% per i portatori di handicap la garantigia è di un milione e mezzo fissa senza potersi qualsiasi sia la sua posizione e per gli altri quindi di grado superiore l'imposta massima è l'8% una domanda cercare di capire e di far capire allora abbiamo detto che in un asse ereditario senza testamento se non ho capito bene una quota va al coniuge e una quota un po' più sostanziosa va ai figli però poi in realtà se i figli sono 4, 5, 6 in realtà il coniuge prende di più stiamo parlando senza testamento senza testamento il coniuge ovviamente ha diritto alla eredità nella ragione totale se non ci sono figli non ci sono ascendenti eccetera facciamo il caso la domanda era questa il coniuge vuol dire il coniuge finché uno non è divorziato in uno stato di separazione finché uno non è divorziato attenzione perché la parola coniuge è stata sostituita e anzi accompagnata da parte dell'Unione Civile adesso anche il coniuge è considerato da questo punto di vista anche la parte dell'Unione Civile quindi non colui che si è materialmente sposato ma che ha costituito un'Unione Civile e nel caso per esempio quindi diciamo un'Unione Civile vuol dire una convivenza mi stia dicendo no? purché sia regolamentata nel comune di residenza l'Unione Civile così come è regolamentata dall'ordinamento italiano e nel caso diciamo in cui due persone stanno in una situazione di grosso conflitto che ne so ti sei separato ti stai divorziando conta la cosa che è successiva magari c'è un giudice che sta per decretare il divorzio e muore il coniuge un giorno prima la fotografia si scatta nel momento della morte quindi prescinde prescinde da quello che è in corso non è mai c'è tanta litigiosità spesso e volentieri su tutto quello che è la successione capisco quello che ha detto lei che comunque parliamo di beni parliamo di soldi ma secondo lei è ben regolamentata nel suo insieme la macchina si la macchina è ben regolamentata le litigiosità in genere nascono quando ci sono i testamenti intanto perché va fatta una precisazione che ogni testamento indipendentemente da come è fatto olografo pubblico segreto ha la stessa valenza ognuno sostituisce l'altro purché sia l'ultimo allora quindi diciamo per capire io faccio un testamento una sera sto ubriaco le faccio un esempio faccio un altro testamento dove scrivo cose diverse e fatto il giorno dopo vale questo purché sia interamente scritto di suo pugno datato e firmato vale l'ultimo ma anche se l'ho scritto magari proprio non in condizioni la data e la firma serve appunto a stabilire soprattutto la data che va apposta per intero serve a stabilire proprio le condizioni di vulnerabilità o meno purché siano acclarate la capacità di intendere e di volere del testatore ma se è ubriaco è difficile provare con ubriaco probabilmente nel caso di testamento ci ho spiegato prima Becchetti in cui il testamento viene annullato tornano le divisioni della legge cioè quello che dice la legge quindi 33 e la rimanenza ai figli se non ho capito 33 coniugge sono coniugge e più figli esattamente nel caso nel periodo invece di conflitto quindi c'è il testamento e il testamento viene in qualche modo bloccato per capire se è veritiare oppure no durante quel periodo che c'è si ferma tutto c'è un blocco l'eredità viene congelata il blocco lo determina eventualmente l'autorità giudiziaria e designando un curatore un curatore testamentario se ci sono i presupposti altrimenti è ben difficile bloccare immagini una casa lo chiamo l'abitazione però se io ho un testamento e lo contesto nel frattempo reddito una casa me la vendo poi magari scoprono il testamento non è più buono e questa è materia per gli avvocati questa è materia per gli avvocati perché comunque se ho la proprietà e l'ho dichiarata posso farne quello che voglio della mia proprietà le eventuali conseguenze poi si vedono in parte in causa civile fra le persone fra le parti allora De Marco e poi Becchetti nella dichiarazione di successione cosa occorre dichiarare come e quando va presentata lo diceva prima il collega va presentata entro 12 mesi dall'apertura della successione ovviamente per l'apertura della successione si intende la data della morte del Decurius e quindi entro 12 mesi va presentata va fatto tutto telematicamente con l'agenzia delle entrate e vanno indicate tutti gli attivi e tutti i passivi che concorrono della massa ereditaria insomma che fanno parte della massa ereditaria e su queste appunto poi si calcoleranno le imposte come appunto diceva il collega le imposte potegare e catastali se ci sono immobili l'imposta del 4% se si tratta di eredità in favore di discendenti diretti oppure che può arrivare fino all'8% in caso di estranei poi appunto con le franchigie che appunto diceva prima il collega che vanno dal milione fino ai 100 mila nel caso delle sorelle chiaro chiaro ma quindi è molto è ancora conveniente cioè è molto conveniente come abbiamo detto prima con Borghese in realtà una successione in Italia è conveniente da un punto di vista fiscale è un po' una cosa conveniente ha un aliquota del 4% che è abbastanza contenuta in effetti poi peraltro quello che volevo sottolineare è che la franchigia del milione questa è la franchigia quella più alta per i discendenti in linea diretta quindi nei confronti dei figli è una franchigia abbastanza ampia perché per esempio per quanto riguarda gli immobili ci si riferisce al valore cadastrale dell'immobile anche nel calcolo della franchigia certo non al valore reale ovvio che sui soldi di un conto corrente ovvio quelli sono ma per gli immobili invece non si va a guardare il valore reale ma il valore cadastrale anche per il calcolo della franchigia che appunto è esente da imposta Becchetti qual è il rapporto reale più o meno che pesa tra il valore cadastrale di un immobile e il valore reale nel quale lo stesso immobile viene poi immesso nel mercato perché c'è un abisso lo possiamo dire è molto difficile dire questa cosa però diciamo tendenzialmente la differenza è più o meno il valore cadastrale è un terzo un terzo un mezzo del valore reale del valore penale in commercio è molto complicato poter dire questa cosa perché il valore cadastrale tiene conto di una serie di fattori molto difficili da calcolare cioè il luogo la categoria cadastrale la classe cioè dei sistemi di calcolo del valore immobiliare in termini fiscali che sono molto diversi da quelli invece commerciali che tengono conto di altre necessità più o meno diciamo un terzo tra un terzo e la metà va bene più o meno il valore ma questo non le sembra un po' strano perché poi a volte può generare la politica tanto parla di nero e questa differenza sostanziale poi in realtà può generare nero quando compro no? perché a volte si vende no non lo genera più adesso c'è una norma scritta molti anni fa che si chiama prezzo valore negli atti notarili di compravendia di immobili ma anche nelle successioni si deve indicare il valore catastale che è considerato il valore fiscale e si pagano le tasse sul valore catastale a prescindere di quale sia il prezzo cioè lo Stato ha fatto una scelta sa che il valore fiscale degli immobili anche per uniformarli per zone omologhe è un valore certo e sulla base di quello può fare delle previsioni di entrata quindi preferisce incassare le tasse sul valore fiscale e non sul valore commerciale quindi consente di fare un atto notarile per esempio di compravendita a 500 mila euro e pagare le tasse sul valore catastale che sono 220 230 250 qualunque esse siano e lo Stato ha la certezza che quelle tasse sono sicure perché non è più conveniente per nessuno pagare meno di pagare le tasse su un valore inferiore al valore catastale visto che quello è un dato certo previsto dal sistema catastale quindi dal sistema fiscale questa cosa avveniva in passato che c'era molto molto nero finzioni cose brutte da vedere adesso no con la legge prezzo valore si indica il prezzo nell'atto si pagano le tasse sul valore catastale si indica l'immobile in successione si pagano le tasse sul valore catastale è un sistema attraverso il quale lo Stato ha la certezza delle proprie entrate la sua figura la figura del notaio è una figura nel nostro paese molto molto radicata secondo lei diciamo oggi la normativa è efficace nei confronti del notaio il notaio ha un'enorme responsabilità il notaio ha un'enorme responsabilità su tutte le transazioni commerciali sulla stragrande maggioranza delle transazioni commerciali molte adesso sono condivise anche con altri professionisti per esempio le cessioni di quote sono condivise con i commercialisti le successioni non le fanno i notai la denuncia di successione è un fatto privato in cui il notaio svolge un'attività di consulenza professionale come gli altri professionisti come i commercialisti come gli avvocati l'attività notarile è molto concentrata su tutte quelle attività che hanno l'obbligo di essere iscritte o trascritte in pubblici registri e quindi le compravendie immobiliari le donazioni le divisioni gli atti societari verbali perché lì c'è bisogno che ci sia il pubblico ufficiale che determina la certezza di alcuni elementi adesso sarebbe troppo complicato entrare nello specifico però il livello di responsabilità che ha dato i notai su certe particolari operazioni patrimoniali è sicuramente molto elevato ma ringraziamo il cielo lo condividiamo anche con molti altri notai in tutto il resto del mondo il notario Vox Populi c'è solo in Italia non è vero il notario c'è in quasi tutti i paesi del mondo ad eccezione dei paesi anglosassoni e alcuni paesi anglosassoni l'Irlanda la Florida la California hanno introdotto il notario esattamente come con la legge notaria italiana addirittura copiando la legge notaria italiana e Borghese che succede nel resto del mondo? allora aspetta ti volevo fare una premessa ricordiamo che lei ha studi un po' sparsi in tutto il mondo ricordiamolo bisogna dire le cose come stanno quindi ha il polso preciso di quello che poi succede negli altri paesi se posso essere come al solito faccio la parte critica perché ho capito che lei mi chiama per litigare nel senso che se no non la chiamo più esatto a fronte facendo il recap di quello che chiaramente è stato detto in questa trasmissione ovviamente ci sono anche delle aree di critica nel senso che il primis come giustamente ha detto il notaio cioè il prezzo valore per quanto riguarda gli immobili perché non estendere il prezzo valore anche alle aree fabbricabili che invece non sono valorizzate in maniera automatica e invece generano ancora contenzioso sia nelle donazioni successioni sia nelle transazioni generali perché non si può adere questo fatto del prezzo valore due abbiamo detto abbiamo ripetuto abbiamo acconclarato che l'Italia a tutti gli effetti può essere considerata un paradiso fiscale per quanto riguarda la tassa di successione ma modello italiano riusciamo a complicarci la vita ossia per quale motivo quando nell'asse ereditario inciampa un immobile che è sufficientemente frequente perché il 70% degli italiani hanno casa di proprietà che succede? Che quella che era una garantigia quella che era un'esenzione in comparison col resto del mondo guarda caso io devo andare a fare una tassazione con quattro tipi di imposte diverse tassa catassale imposte di bollo si ricorda in un'altra puntata abbiamo detto tutti questi tributi e questo riguardava le aziende anche un privato deve andare a frazionare l'impatto fiscale in quattro tipi di imposte diverse quando ne basterebbe una sola e più il discorso che adesso è stato introdotto dell'obbligo questo è civile che però ha anche una piccola ricordata fiscale e qui mi rivolgo al notaio che è presente la trascrizione dell'accettazione dell'eredità perché se questi immobili che cadono in successione l'erede li vuole tenere e vuole aspettare i vent'anni che si perfeziona l'usucapione nulla osta ma se lui lo vuole vendere questi immobili e ne vuole disporre necessariamente va fatto un altro adempimento che in qualche volta coinvolge anche il notaio che è questa accettazione tacito esplice dell'eredità che va trascritta perché ricordiamo che la successione ha una valenza solo fiscale quindi il contribuente che riceve in eredità un immobile cosa deve fare? deve fare un'accettazione tacito dell'eredità andare dal notaio chiedere la trascrizione e sono soltanto di tasse più o meno 300-400 euro tasse balzelli sempre imposta di bollo e ovviamente poi la parcella del professionista che giustamente deve trascriverle allora questo proprio perché noi ci piace complicarci la vita anche quando siamo considerati un paradiso fiscale nel mondo cioè noi siamo un paradiso fiscale però nonostante un paradiso fiscale siamo un paradiso fiscale come al solito burocratico e complicato esatto poi per esempio per fare un discorso di comparison nei confronti del mondo abbiamo detto gli Stati Uniti la tassazione average è il 40% ma con questa franchigia enorme però non riguarda i non residenti cioè se qualcuno che viene a mancare ha degli immobili o dei beni negli Stati Uniti questa franchigia non vale quindi ovviamente la tassazione è il 40% UK per esempio c'è una garantigia di 325.000 pounds per il coniuge che può replicarla in caso di sopravvenienza quindi quando verrà a mancare anche lui quindi arriviamo a una garantigia di 620 diciamo più o meno 600.000 pounds però anche lì il 40% la tassazione più alta sta in Francia in cui ci sono addirittura le aliquide come con l'IRPEF e arriva al 45% l'ultima tassazione oltre a 1.800.000 di asse ereditario detto questo un'altra norma che amo citare perché molto spesso sfugge anche ai nostri colleghi che è l'esemplificazione di come la nostra impianto normativo sia difesa della famiglia è il 540 del codice civile cosa dice questa disposizione di legge cioè prevede il diritto di abitazione ed uso dei mobili al coniuge superstite questo fa capire l'idea come di fronte a un coniuge che si trova vedovo quindi senza il proprio coniuge è interdetto ai figli di intanto sfrattarlo dalla casa coniugale e soprattutto di andare a fare lo spoglio dei mobili quindi il codice civile in questo caso ha avuto la sensibilità di dire guarda questo diritto di abitazione che è leggermente diverso dall'usufrutto e l'usufrutto lo posso anche affittare se invece il coniuge superstite decide di affittarlo questo diritto chiaramente viene a mancare però a tutti gli effetti evita che ci possano essere dei figli diciamo un po' brutali che possano chiedere al coniuge superstite di andarsene dall'immobile o addirittura andarsi a prendere la specchiera o il quadro di famiglia e mi sembra che anche questo sia una semplificazione di come l'impianto normativo in realtà poi in sintesi sia a diretta tutela di quello che come dicevo all'inizio nell'incipit della famiglia intesa come nucleo sociale di base amato ha fatto un buon sunto il dottor borghese l'ha fatto ottimo ma d'altronde è a diretta tutela della famiglia e è vero ha fatto bene a sottolineare il diritto d'abitazione che era sfuggito un po' tutti noi ed è importante anche che il tessuto fiscale tenga conto anche del particolare tessuto connettivo italiano cioè molti proprietari di prima casa molti genitori che fanno la casa ai figli partecipano casomai i figli non lavorando si intesta il mutuo il padre rimane i figli insomma tiene conto di tutto questo particolare tessuto italiano e io non lo chiamerei paradiso fiscale perché personalmente reputo le imposte di successione delle imposte rubate rubate agli sforzi della famiglia io quindi per carità massima massima rispondenza quindi la trova non alta se i beni rimangono nell'ambito della famiglia secondo me queste sono imposte che lo Stato se ne appropria indebitamente però questa è un'opinione ovviamente la sua opinione è proprio zero non ci dovrebbe essere nessun tipo di imposta se rimangono all'interno della famiglia secondo me nessun tipo di imposta De Marco che ne pensa velocemente? sono impostazioni poi ripeto i paesi anglosassoni sicuramente forse hanno un sistema che tassa di più la proprietà e quindi in questo caso tassa anche di più la successione l'Italia è un paese dove questo viene tassato di meno magari vengono tassati di più i redditi d'altronde poi quello che serve per mandare l'antito Stato è sempre la coperta corta quindi togli una parte e metti dall'altra quindi se riduci le imposte sul patrimonio devi poi aumentarle dall'altra parte e forse la teoria anglosassone è quella che tassare di meno chi produce produce più ricchezza rispetto a tassare di meno invece i patrimoni fermi sono logiche sono logiche possono essere tutte valide Becchetti rispondo rapidamente a due sollecitazioni la prima sì è vero sono d'accordo che con Borghese secondo me dovrebbero essere stese le normative sulla tutela fiscale anche ai terreni edificatori anche agli immobili ad uso commerciale diciamo è veramente poco senso che questa norma riguardi soltanto gli immobili ad uso residenziale il tema della successione nel nostro paese è stata trattata tantissime volte e bisogna fare un'analisi precisa del fatto che nel nostro paese viene sempre tassata la proprietà immobiliare cioè il tema della proprietà immobiliare viene tassata più di qualunque altra cosa anche molte tasse che appartengono a una definizione diversa la tassa sui rifiuti la tassa sui servizi quelle sono sempre tasse sugli immobili che vengono calcolate sulla base degli immobili la successione non è esente da questa modalità del nostro paese di tassare la proprietà immobiliare ha in qualche maniera ha mitigato questo con una franchigia molto alta che è quella di un milione di euro all'interno dei rapporti familiari quindi coniugi e figli ha mitigato questa cosa consentendo a quella grande quantità di italiani che hanno la prima casa di trasferire la prima casa ai propri figli senza pagare tasse quindi pagando solo le imposte fisse che sono imposte di servizio però diciamo nell'impianto generale sarei d'accordo nel dire che l'imposta di successione è un'imposta è un'imposta fastidiosa ecco cioè mi stai tassando per i sacrifici della mia famiglia hai già tassato la proprietà immobiliare nel corso del tempo l'hai già tassata più volte nell'acquisto nella provenienza ritassarla un'altra volta nella successione sembra veramente un'aberrazione sono d'accordo ora il sistema nostro è certamente uno dei sistemi migliori e più meglio funzionanti nel panorama internazionale però come tutto può essere migliorato è perpetibile anche in questo io metterei le mani qui è uscito fuori il politico che è lei lo possiamo dire non riesce a farne a meno non riesce proprio a resistere insomma solo il ruolo del notaio le sta stretto ringrazio appunto il notaio Alfredo Becchetti grazie grazie a voi per l'invito ringrazio il fremente dottor Roberto De Marco lui lo sa per quale motivo è in fremente attesa ringrazio il dottore commercialista Massimiliano Borghese parliamo di calcio quindi non pensate male grazie a voi e ringrazio il consulente fiscale revisione legale Romano Amato grazie a voi buona serata l'appuntamento con noi torna immaccabilmente domani passate una buona serata a domani a domani Roma Multiservizi SPA da oltre 25 anni garantisce altissimi standard qualitativi e di sicurezza per il settore pubblico e privato operiamo nelle scuole negli asili in aree verdi ed edifici con servizi di sanificazione assistenza pulizia igiene manutenzione sicurezza e agibilità siamo un'azienda leader nei servizi integrati con il 97,5% di soddisfazione del cliente contattaci sul sito romamultiservizi.it Roma Multiservizi la nostra professionalità al vostro servizio The Building Hotel 4 Stelle al centro di Roma presenta Gourmans ristorante immerso in un'atmosfera avvolgente e suggestiva dove gustare il meglio dei sapori mediterranei un'ampia scelta di cucina internazionale ed etnica con materie prime di ottima qualità magistralmente interpretate dallo chef Andrea Kossalter Ristorante Gourmans presso Hotel The Building in via Montebello 126 Roma How can I try to explain when I do he turns away again it's always been the same same old story and going to be Grazie.